Allora, Diego ho 32 anni e cosa vorrei come piatto per la mia ultima cena? Dunque, partendo dal presupposto che spero che questo avvenga il più tardi possibile, opterei per un primo piatto a base di spaghetti alla matriciana, tantissimi, una ciotola immensa, e poi concluderei con un buon dolce e qui credo che si vada su un qualsiasi dolce a base di cioccolato per chiudere bene, insomma. Basta così.